Buonasera e benvenuti alla terza edizione del Design for Rumore. Un saluto a tutti voi. Terza edizione, come dicevo, è una edizione più articolata. Gli scorsi anni era una manifestazione che si svolgeva in una sera, in un weekend. Quest'anno invece abbiamo pensato di dare più spazio alle varie attività ed è articolata appunto su una settimana di eventi. Stasera iniziamo con questi sei designer. Martedì avremo un premio alla carriera a Berter Tofoloni. Giovedì sera una serata fashion, sushi e design. Mentre concluderemo venerdì prossimo con un convegno a livello nazionale sull'arredo prima infanzia. Una serata molto interessante perché si parlerà di arredo prima infanzia seguendo i metodi del metodo Montessori appunto. Bene, io non voglio, anche perché siamo un pochino in ritardo, do subito la parola al professor Giorgio De Ponti che condurrà la serata. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Sono Giorgio De Ponti, insegno designer politecnico di Milano e condurrò un attimo il dibattito di questa serata per cercare di far capire ai non addetti ai lavori quali sono le linee progettuali e qual è il sistema di pensiero che ogni designer adotta nel momento in cui concepisce un oggetto. Abbiamo qua sei designer di estrazione completamente differente e con dei risultati progettuali che a volte non si parlano neanche. Si spazia dal design del prodotto, quindi l'industria del design classico, fino all'arte pura. visto che Giorgio ha già detto che siamo leggermente in ritardo, iniziamo subito con una designer brianzola, come si conviene, di fama mondiale che ci spiegherà qual è il suo concetto e soprattutto nella fase espositiva gli orologi a cucù che poi potrete vedere al piano di sotto. Antonella Scarpitta. Buonasera, come ha giustamente in questo momento preannunciato l'architetto, mi chiamo Antonella Scarpitta, sono un architetto designer e lavoro nel territorio dell'Ebrianza, quindi ho avuto la fortuna in quel territorio di sviluppare contatti con la realtà produttiva, soprattutto artigianale. Lavoro da 36 anni, quindi il mio processo professionale e di formazione si è sviluppato negli anni 70, nel periodo in cui c'è stato grande fermento per quanto riguarda la nascita del design. Ho lo studio denominato Antonella Scarpitta Design a 360 gradi a Seviso e sono a metà strada tra Milano e Como, quindi riesco ad avere in sostanza le influenze della grande città e poi anche della provincia. Cosa dire, la mia formazione a livello creativo deriva dalla famiglia, sono figlia, sono cugina, nipote di grandi attristi, quindi la mia formazione creativa appunto deriva dalla famiglia, ho avuto la grande fortuna di conoscere artisti come Andy Warhol, Ligtestein, perché ho un cugino che faceva parte del gruppo Leo Castelli Gallery, quindi ho avuto anche la fortuna di conoscere Leo Castelli. Quindi ho una formazione un po', diciamo, da una parte artistica, dall'altra parte però tecnica, perché la mia prima formazione è di origine di tipo artigianale. Ho fatto l'Istituto Statale d'Arte di Cantù e ho avuto la grande fortuna di avere come professore l'architetto Tilio Marcolli, con cui ho collaborato anche per la stesura di un libro, che è la Teoria del Campo, che mi sembra che a Firenze venga adottato come libro didattico. e da lui ho preso, sostanza, il principio di come, in sostanza, progettare un ambiente. Quindi la metodologia nel campo gestaltico, non so come spiegarvelo, non so come spiegarvelo, no? Mentre, diciamo, l'altra formazione per quanto riguarda l'industria design puro, ho avuto la grossa fortuna invece di avere sia come professore che poter anche stare vicino e lavorare il maestro Bruno Munari, con cui ho, in sostanza, con cui ho condiviso quello che è il principio progettuale, che lui ci sensibilizzava in un modo molto semplice, perché poi tra l'altro era un personaggio anche molto semplice. lui diceva il progettare un prodotto e come realizzare la ricetta per fare in sostanza un piatto di cucina. Quindi, se si procede secondo quello che è la descrizione e quindi anche il metodo della ricetta, il piatto viene fuori per come è stato descritto. Se invece si va fuori evidentemente va a finire che la ricetta realizzata insomma il cibo si butta via. Quindi ho appreso questa metodologia e i miei progetti infatti seguono questo metodo e soprattutto seguono il metodo della semplificazione. che tra l'altro è un processo mentale molto faticoso e molto complicato che purtroppo molto spesso non viene apprezzato perché io ritengo che il togliere è molto più difficile che il mettere in quanto il mettere nasconde un po' la forma e toglierla invece la la dà nella visione più assoluta per cui diventa molto più difficile fare un prodotto che sia visibile nella sua forma. Parlando di ciò che hai portato qua e di ciò che hai esposto come sono nati? Sì io normalmente il mio processo diciamo progettuale aziendale è molto tecnico è molto pulito in questo caso invece c'è stato un po' il volere anche esprimere attraverso colore un qualcosa un prodotto che normalmente è un po' nella memoria di tutti quanti noi no? Quindi l'orologio cucù che ci ricorda non so la casa della nonna dove c'è il cucù tradizionale tutto è nato come poi meno male nascono poi i miei progetti da rapporti con delle persone ho conosciuto l'azienda che le ha realizzate che si chiama Fratelli Consonni scusate perché stavo realizzando un altro progetto a Milano avevo realizzato uno stand con l'obiettivo il principio che mi accomuna comunque che il sogno è la prima forma di realizzazione quindi all'interno dello stand avevo realizzato queste grandi sagome avevo bisogno di mettere un pendolo chiedendo un amico mi dice si guarda te lo puoi realizzare perché sai c'è il mio zio che è un'azienda diciamo storica che costruiscono i pendoli quindi sono andata a visitare l'azienda con i miei collaboratori e tra l'altro siamo rimasti affascinate a dire poco perché è ancora la classica bottega che lavora il legno con intaglio quindi ci sono lì proprio gli operai che fanno il lavoro ancora con intaglio ci ha fatto vedere poi tutta la collezione dei pendoli cose fantastiche con delle lire incise che sono veramente delle opere di gioielleria e poi ci ha fatto vedere i cucù ovviamente ci ha fatto vedere i cucù quelle tradizionali grande fascino perché poi c'è la giostrina con i personaggi solo che la mia dipendente dice sì belle bellissime però non si possono mettere in casa in una casa moderna e lui ha fatto la battuta e dice pensateci fate la collezione quindi questo per dire che tante cose nascono anche dai rapporti che si creano poi per quanto riguarda invece ci siamo accordati effettivamente a fare questo progetto c'è stata tutta la fase quindi vi voglio la voglio spiegare perché tante volte si vedono i progetti ma non si sa quello che c'è dietro veramente nel progetto ci sono delle fasi che sono veramente molto importanti che è la fase di indagine su quello che c'è sul mercato la fase dei materiali l'obiettivo dei costi l'immagine quindi la comunicazione e tutto questo ovviamente implica un lavorare con metodo e tutto i cucù quindi sono diciamo dei pezzi realizzati secondo questo principio di fatti anche il catalogo è stato realizzato connubbiando delle immagini emozionali ma che fanno cioè che danno direttamente la comunicazione di dove è nata l'idea per quel design poi vabbè la cosa diciamo il prodotto mi ha preso moltissimo perché il prodotto della memoria è il prodotto dei bambini ma è anche dei grandi che hanno mantenuto un po' l'animo bambino non so cosa aggiungere non so se avete delle domande oppure è chiaro che comunque sono lì da vedere vedo che creano abbastanza emozionalità e anche insomma piacere nel vederli c'è anche di dietro uno studio nel conoscere quello che è la meccanica dell'orologio perché poi c'è lo stop per il periodo notturno quindi c'è una ricerca anche a livello tecnico non indifferente anche se poi esterilmente può sembrare una cosa così solo di carattere estetico io avrei finito vi ringrazio moltissimo così diamo spazio anche agli altri design è chiaro che poi tutti i designer saranno a disposizione per eventuali domande al piano di sotto e le spiegazioni sulla parte concettuale e sulla parte artistica degli oggetti